la kermansia che roba è sta parolaccia fondamentalmente è un microorganismo che abita nel nostro intestino quindi fa parte della flora batterica intestinale il microbiota che ultimamente viene venduto come integratore probiotico e viene spacciato come panacea di tutti i mali perché prendendo questo si risolviamo tutto ma è davvero così le cose stanno un pochino diversamente allora dove nasce l'inghippo fondamentalmente è stato osservato che in persone obese con diabete tipo 2 ed altre patologie questo tipo di microorganismo è poco presente e quindi meno di quanto dovrebbe essere quindi le case produttrici di integratori cosa hanno pensato hanno fatto uno più uno è meno presente quindi noi lo vendiamo e diciamo che in questo modo andiamo a sistemare queste patologie in realtà le cose stanno come dicevo diversamente perché perché nel momento in cui una persona si trova in uno stato di sovrappeso o peggio ancora di obesità nella stragrande maggioranza dei casi è perché mangia troppo mangia male e non si muove quindi ha uno stile di vita sbagliato lo stile di vita va a interagire direttamente con la flora batterica intestinale con microbiota alterando alterando nel modo negativo cioè promuovendo la crescita di quelle specie microbiche dannose a scapito invece di quelle positive quindi prendere un integratore andrà a risolvere il problema assolutamente no perché il problema è a monte quindi dobbiamo lavorare a monte sullo stile di vita quindi perdere peso se necessario migliorare l'alimentazione muoverci di più a quel punto andremo a favorire la proliferazione delle specie positive a discapito di quelle negative quindi mangiando anche tanta frutta e verdura alimenti ricchi di fibre e tutta una serie di cose quindi a questo punto miglioreremo il nostro microbiota l'assunzione di un integratore di probiotico può dare un sollievo momentaneo perché va un attimino a riequilibrare le cose ma momentaneamente mica permanentemente perché a monte c'è quel problema problemone che mi va ad alterare la proliferazione ovviamente essere in stato di obesità altera tante funzionalità del nostro corpo però in questo caso stiamo parlando di quello il discorso poi della supplementazione di Ackermansia non ha ancora riscontri clinici perché non ci sono studi per quanto ne so sugli esseri umani sono stati fatti degli studi sui topi e non sugli esseri umani quindi non sappiamo che effetto abbia sull'essere umano perché non ho trovato studi clinici su esseri umani ma solo su topi sui topi pare che dia un po' di aiuto durante un percorso di dimagrimento però ripeto se a monte lo stile di vita non è corretto e voglia pigliare Ackermansia o qualsiasi altra cosa il problema non andiamo a risolvere perché dobbiamo sempre noi lavorare a monte e non a valle se lavoriamo a valle stiamo solo perdendo tempo nella migliore delle ipotesi quindi cosa ne penso che attualmente non ci sono studi clinici che ne avvalorino l'utilizzo e comunque i probiotici vanno presi solo e soltanto se c'è un effettivo bisogno e non a casaccio perché presi a casaccio possono fare più danni di quanti non ne vadano potenzialmente a correggere perché comunque la flora batterica intestinale deve stare in equilibrio e quindi avere molte specie anche potenzialmente benefiche che però sfuggono al controllo quindi in quantità eccessiva può portare comunque a tanti problemi quindi non prendete integratori a casaccio non prendete i probiotici a casaccio ma parlatene sempre prima con il medico e sarà lui o lei poi a suggerire eventualmente l'utilizzo di questo o quell'altro probiotico in base anche al problema perché i probiotici non sono tutti uguali e in base al tipo specifico di problema dobbiamo utilizzare il probiotico corretto per esempio se soffro di colon irritabile e prendo un latto bacillo non ci sto facendo nulla perché nel colon i latto bacilli lo vedono col binocolo perché per il colon servono i bifidobatteri quindi ci sono zone dell'intestino diverse per probiotici diversi quindi mi raccomando non fate mai roba fai da te solo perché ve l'ha consigliato la zia della cugina dell'estetista o perché avete sentito dire o avete letto su internet eccetera eccetera fate sempre riferimento al medico in particolare in questo caso magari a un gastroenterolo quindi mi raccomando è sempre carichi e motivati